e finalmente un contesto di edilizia popolare ma che è assolutamente non dico di lusso ma molto gradevole molto bello e quindi dove la gente vivrà sicuramente meglio come la signora prima ci ha detto c'è ancora purtroppo anche qui la piaga degli abusivi ma su questo come ho anche ricordato prima col prefetto avvieremo una serie di azioni mirate dove almeno i casi diciamo così di maggior criticità che non sono legati esigenze sociali possono essere in tempi brevi sgomberate grazie